Grazie, Presidente. Vorrei iniziare questo intervento da queste parole. La mafia, affermava Antonino Caponnetto, procuratore della Repubblica, teme più la scuola che la giustizia, dal momento che l'istruzione toglie l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa. Questo è stato l'input che mi ha spinto a depositare la proposta di legge che è stata oggetto in esame congiunto con la proposta della serratrice di Rindin, di cui discutiamo oggi. Sono trascorsi ormai più di vent'anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio e per poter combattere la cultura mafiosa e le sue manifestazioni più o meno estreme è necessario innanzitutto avere contezza della storia e delle sue radici e soprattutto farle conoscere ai giovani. Se la memoria è fra i pochi valori capaci di nobilitare e salvare dalla quotidianità della vita, troppo spesso tuttavia dimentichiamo di rievocare e onorare quelle figure esemplari che hanno segnato in modo indelebile la storia del nostro Paese. Figure come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che accomunate dal tragico destino di vittime della mafia a cui si erano fieramente contropposti, hanno rappresentato entrambi un'icona indiscussa di legalità, onestà e coraggio. Troppo spesso le nuove generazioni rimangono all'oscuro anche del più recente passato, dunque senza sapere neanche chi siano stati Falcone e Borsellino e cosa abbiano rappresentato. Gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini, sosteneva Falcone, ma affinché ciò possa verificarsi non si deve dimenticare il sacrificio di questi umili servitori dello Stato. Le loro idee dovrebbero risiedere nella coscienza civile e nel lavoro di tutti coloro che, opponendosi alla prevaricazione e all'eclissi delle coscienze, scelgono ogni giorno il valore dell'onestà. Riteniamo fermamente che Falcone e Borsellino, uccisi dalla mafia del 1992, rappresentino l'emblema della legalità e della lotta civile alle organizzazioni criminali. Essi raffigurano, anche visivamente, la razza che intendevamo perseguire con il disegno di legge presentato, ovvero conservare e costruire una memoria storica delle vittime innocenti delle mafie, nonché i successi della magistratura che opera in difesa delle istituzioni democratiche. La legalità va di pari passo con la conoscenza e la responsabilità. Accrescere una cultura della giustizia e della legalità, permettere dunque di responsabilizzare studentesse e studenti, stimolandone le coscienze. Permettetemi di dire che riconoscere una giornata nazionale della memoria per le vittime della mafia come atto in sé, a mio avviso, non ha alcun significato, se non viene effettivamente concepita e programmata come momento di riflessione e di ricordo delle iniziative concrete. Ora, nell'evidenziare l'approvazione di un nostro emendamento che richiede agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, la promozione di iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alla mafia, dobbiamo anche constatare che la nostra specifica proposta di invitare gli istituti scolastici ad esporre un'immagine di Falcone e Borsellino, il cui valore è anche quello di contribuire a non dimenticare, purtroppo non è stata accolta, ma è stata accolta dal Governo e dal relatore sotto forma di ordine del giorno. E' chiaro che si tratta di un atto simbolico, la fissione di un'immagine, nel rispetto dell'autonomia scolastica, che tuttavia riteniamo sia molto importante e carico di significati perché rappresentativo di un'icona indiscussa di legalità, onestà e coraggio, che proprio negli ambienti scolastici dovrebbe essere evidenziata. Perché questa era davvero la razio che doveva avere questo disegno di legge. L'iniziativa, unitamente agli eventi di sensibilizzazione e di riflessione comune, non costituiscono solo un'occasione celebrativa, ma un'opportunità per riflettere, approfondire, discutere, per promuovere fra gli studenti quel sentimento di legalità e di appartenenza a una stessa patria che dovrebbe accomunare tutti i cittadini. Per quanto fin qua detto, comunico a quest'Aula il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie.